Bene, allora facciamo un po' di interattività nella nostra scena quindi prendiamo il nostro VRC World e da dove l'avevamo messo lo spostiamo in modo tale che sia un pochino laterale e la freccia blu indica dove guardiamo quindi la blu, la z, indica che guarderemo praticamente la nostra Mona Lisa ora facciamo una cosa interessante, gli mettiamo un muro quindi per mettere un muro facciamo un GameObject e creiamo un cubo che sarebbe questo, e però questo cubo lo mettiamo praticamente qui a metà strada e poi lo allarghiamo in qualche modo, quindi lo guardiamo un pochino di lato e lo facciamo in modo tale che arrivi fino a dentro il muro facciamo col tasto destro, ci muoviamo e possiamo modificarlo e facciamolo anche che sia in alto ok, qui c'è il muro, quindi noi quando entriamo praticamente abbiamo il muro che ci impedisce di vedere la Mona Lisa ora, la cosa che vogliamo fare è quello di Rotation 000 quindi dovrebbe essere in teoria a posto noi vorremmo fare in modo tale che questo muro quando ci avviciniamo sparisca, in modo tale che si apra automaticamente è un esempio molto semplice una specie di porta che compare e riappare a seconda che noi ci avviciniamo o meno allora, per fare ciò aggiungiamo un altro cubo quindi facciamo un componente game object facciamo un altro cubo che è questo e lo doppia lo mettiamo più o meno per terra e lo allarghiamo sempre più o meno delle dimensioni del muro anzi no facciamo una cosa interessante facciamo che questo oggetto che sarà l'oggetto che permetterà di aprire il muro sia soltanto nella parte sinistra quindi in una mini escape room in cui vogliamo che praticamente questo oggetto compaia e appaia solo se noi siamo in grado di spostarci praticamente in quell'intervallo quindi lo facciamo un pochino più un pochino più largo quindi magari prendiamo di lato magari lo facciamo con questo la scalatura quindi lo scaliamo e lo ingrandiamo un attimo e quindi questo qui sarà il muro cioè praticamente il trigger o doppia che se lo attraversiamo cioè se entriamo in questa zona qua sia di qua che nell'altra parte del muro vedete che adesso oltretutto è un pochino sotto terra lo mettiamo un po' sopra quindi facciamo in modo tale che quando ci camminiamo sopra si apra tutto allora per semplicità nel mesh renderer e nel default material gli mettiamo un materiale che chiameremo trigger area material che sarebbe il eccolo vedete che il trigger material è a questo colore blu caratteristico che ci permette di vedere che quando noi entriamo in quell'area otteniamo l'effetto di far aprire o chiudere il muro quindi lo spostiamo ok allora per ottenere questo effetto dobbiamo aggiungere nel nostro trigger che è questo signore qua un componente innanzitutto dobbiamo dirgli che è un trigger questo cosa vuol dire? se il trigger vuol dire che si accita quando ci entriamo dentro una specie di volume poi gli aggiungiamo un cerchiamo udon udon behavior e quando abbiamo l'udon behavior possiamo fare un new program e a questo punto fate un open udon graph allora quando fate l'open udon graph a questo punto potete dire che possono accadere delle cose quindi se premete lo spazio potete dire player trigger quindi quando l'utente entra on player entra nel trigger e poi potete fare spazio sempre player exit on player trigger exit e dopodichè prendete il vostro cioè cosa volete? volete prendere questo qui che era il ricordiamo questo qui che era il muro lo chiamiamo magari muro muro invece questo qui è il trigger quindi lo chiamiamo trigger allora quando il muro vogliamo che sia che si muova in pratica abbiamo selezionato il muro andiamo sul nostro udon graph che è ancora aperto avendo selezionato il muro prendiamo il trasformo trasformo vuol dire la posizione del muro e ce lo mettiamo qua quindi il muro è che però questo qui è il il nostro oggetto che vogliamo alzare o abbassare a seconda di casi quindi il muro quando usciamo è abbassato e quindi ecco vedete qui fa questo effetto qua cioè se trasciniamo il transform che abbiamo trascinato prima mi chiede come trasformarlo ma questo perché io gli ho messo il search on noodle drop quindi dovete mettere su settings e mettere l'icona qua altrimenti quando tirate giù non succede niente quindi search on noodle drop prendete il muro e qui gli mettete il set position ok quindi la set position la fate quindi diciamo che quando diciamo la persona esce dal trigger quindi mettiamo il fatto così gli mettiamo le coordinate del muro che è questo che sono queste meno 10 e 67 quindi qui mettete meno 10 punto 6 7 la y è 3 punto 9 e la z è 7 punto 9 ok poi qui prendete questa set position fate ctrl d vedete che ha creato un'altra copia e l'associate sempre al muro e gli dite che quando entra invece volete che il muro sparisca quindi per vedere il muro come farlo sparire prendete questo muro qua lo adesso vedete che era la y che sarebbe l'altezza il verde è a 3 89 lo abbassate tutto in modo da metterlo sotto vedete che è meno 1 38 quindi lo mettete meno 1 38 quindi la x è sempre 0 no la x forse ho sbagliato vediamo un po' rimettiamolo nella posizione originale che era questa meno 1067 che sarebbe questa meno 1067 quindi meno 10 punto 67 quando invece sotto la x del coso sarà cioè la y quindi meno 1067 la y è meno 1 98 quando è sotto e quando è sopra è 4 la y è 4,2 quindi ok quindi meno 10 e 67 questo 3,9 o 4,2 insomma è quello e invece quando è aperto abbiamo detto che va sotto quindi meno 2 meno 3 questa cosa qua quindi gli mettiamo meno 3 quando entra la y è meno 3 ok quindi questo è già un programma che praticamente funziona nel senso che partendo dall'iniziale lui presenta la scena iniziale che gli date e quando andate andate vicino al trigger che vedete perché è blu quando entrate lui praticamente fa scatenare questo udon graph e l'udon graph cosa fa? quando entra il personaggio allora imposta la posizione con la y a meno 3 del muro vedete instance è messa instance quindi vogliamo modificare la posizione di questo oggetto e la vogliamo modificare facendola abbassare quando esce vogliamo che la posizione y torni su di 4 metri in alto ora salviamo la scena facciamo avere chat sdk e facciamo show control panel accertatevi di fare switch build to windows perché se no non si accende questo tasto può impiegarci magari qualche minuto dopo di che fate force non vi erro perché lo provate senza visore fate build and test e a questo punto potete provare a vedere se funziona quindi lui ci impiega un secondino a compilare la scena ok qui lui lancia VR chat in locale a me dopo un po' mi sparisce il ok si sente il rumore di VR chat ok devo fare alt tab faccio go ok vedete che sono nella scena posso muovermi e non vedo la gioconda però se io mi muovo e vado verso la posizione di questo oggetto blu non l'ha fatto vediamo cosa è successo quindi ah si è spostato di lui si è spostato di lui ma non ho sbagliato qualcosa gli ho detto di spostare la parte la parte sbagliata probabilmente devo rifarlo ok quello che è successo e che tra l'altro anche nel tutorial che ho visto a volte succede è che il muro in realtà lui l'ha messo su self invece dobbiamo metterlo proprio sul muro quindi prendiamo un muro lo mettiamo sulla public variables di muro di questo trigger e a questo punto mi aspetterei che dovrebbe funzionare ctrl s vr chat show control panel build and test ok vediamo un po' se riusciamo ad andare di nuovo entriamo in vr chat abbiamo di nuovo questo questo meccanismo per cui ah no adesso facciamo alt tab go ok quindi adesso se io mi avvicino a questo oggetto vedete che sono entrato nel trigger e mi ha alzato la barriera e posso andare verso la gioconda quando esco dal trigger il muro diciamo ricompare perché sono uscito dal trigger ed essendo un muro fisico per riuscire a farlo alzare devo andare in nuovo nel trigger e allora posso attraversarlo ok faccio escape settings exit ora il fatto di metterlo blu serve per fare il test ma in realtà normalmente voi cliccate il vostro oggetto questo e gli mettete che il renderer gli togliete il renderer in modo tale che sia non visibile quindi qui il concetto è che per riuscire ad andare alla gioconda bisogna andare nella parte sinistra del nostro muro e attraversarlo di lì c'è una specie di porta invisibile quindi ctrl s lo riproviamo show control panel build and test e quindi vedete che ok lui compila fa tutto il mestiere facciamo poi di nuovo l'alt tab go ok quindi vedete che non c'è traccia di dove sia il posto dove andare se io vado dritto il muro non mi fa andare ma se vado verso il sinistro vedete che a un certo punto vedo l'apertura e sparisce il muro e quindi posso attraversarlo e una volta che esco dal trigger rieppare il muro e quindi abbiamo praticamente questo paesaggio che appare e scompare a seconda che io vada sul trigger o meno quindi una specie di porta segreta porta segreta quindi questo è un micro inizio di escape room nel senso che per risolvere questo problema occorre capire e magari nella porta potete mettere anche dei simboli insomma dei disegni qualcosa una texture poi magari lo vediamo meglio come texturizzare questi muri ma la base cioè la base di Udon è segnata nel senso che la possiamo fare per pubblicare questo mondo vi ricordiamo che dovete pubblicarlo due volte una volta per windows quindi dovete fare la la build publish for windows quindi il mondo adesso lo pubblichiamo per windows lo vedete in tempo reale ok che lui compila e fa e trita tutta questa cosa ok quindi vi dovrebbe presentare qui il il meccanismo di pubblicazione che abbiamo visto prima ci piega magari un attimo eccolo quindi gli mettiamo sempre la spunta facciamo upload quindi viene scaricato per windows e ricordatevi che però dovete anche pubblicarlo per oculus quest se volete che venga accenuto che questa stanza abbia lo stesso comportamento in oculus quest per farlo andate ancora nel build settings vabbè siete già per android quindi siete già a posto quindi dovete dentro vrchat sdk fare switch build target to android compiling scripts e quando lui ha fatto tutto il mestiere di conversione ad android che ci impiega sempre un pochino ok quando ha finito potete fare il build and publish for android e quindi avete pubblicato il mondo sia per windows che per android questo warning al momento ignoratelo vuol dire che c'è qualche texture che non è particolarmente ottimizzata ma adesso vedrò verificherò che su questo mondo ci posso entrare anche su android comunque dovremmo farvi la la domanda anche adesso per la pubblicazione che è questa qua quindi gli diciamo di pubblicarlo ok e quindi adesso vi dovrei aver insegnato proprio le basi per fare una piccolissima porta segreta in una mostra per poter entrare e accedere alle stanze successive qua tra l'altro facendo manage world in browser vedete i bondi che avete pubblicato questo qui e dovrebbe esserci scritto tra le altre cose in teoria anche se il mondo è in in modalità windows pure no comunque qui non lo dice purtroppo ma sappiate che l'abbiamo pubblicato correttamente quindi è tutto per questo video salve grazie a tutti